ciao ragazzi quest'oggi vi porto la mia esperienza del ragfone l'ho usato dal aspettate da un po che lo uso ormai i miei video uno l'ho fatto l'unboxing asus ragfone quattro mesi fa esattamente c'è scritto anche quattro esattamente allora aspettate il video l'ho fatto il 10 novembre 2018 per cui un po di tempo fa allora in questi mesi mi sono trovato veramente 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 di lusso batterie stiamo parlando che quando facevo proprio delle brutte giornate facevo delle 5 ore 20 così invece nelle giornate buone tra virgolette diciamo 6 ore 6 ore e mezza in base a quello che naturalmente si faceva io ci chiamo un sacco col telefono questo telefono qua in particolare prende veramente 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 di lusso prende e e questo abito in una casa dove c'è veramente pochissima ricezione e quindi sono molto molto contento con tutte le chiamate che faccio wifi prende benissimo da qualunque parte e cos'altro dire ancora lo schermo è bellissimo perché lo schermo è bello luminoso assolutamente mi ci trovo veramente poi anche il software reattivo allora qui devo fare devo dirvi anche il brutto che ho trovato finora all'inizio appena mi è arrivato proprio uno dei primi in italia credo a cui si è arrivato e c'era un mezzo problemino perché il software e faceva veramente 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 pietà non prendeva bene e la batteria durava tanto lo stesso ma gli auricolanti gli ciao i gli autoparlanti gracchiavano ma gracchiavano di brutto proprio e quindi era veramente una cosa orribile ma proprio orribile e e poi dopo un pochettino è arrivato un aggiornamento e sistemato un po le cose poi è arrivato secondo aggiornamento e mi sono innamorato l'unica mia fortuna che nel frattempo non l'avevo ancora dato via avevo provato a contattare l'assistenza che non mi hanno cagato di striscio proprio non mi hanno cagato letteralmente di striscio e dai 1 dai 2 dai 3 alla fine ho fatto finta di niente l'ho tenuto lì da parte nel frattempo usato il pixel 2xl con questo facendo adesso il l'unboxing e così la recensione e e basta poi allora ci sono tre piccoli appunti da fare che mi ero segnato a qualche parte come lo segnate no fa lo stesso comunque sia questo telefono qua ha tre piccoli difetti secondo me il primo è la luminosità al buio troppo alta il secondo è che non ha la ricarica wireless che io lo chiamo difetto ma diciamo più mancanza che difetto e il terzo che non è ip68 basta se proprio proprio trovargli dei difetti ma l'unica l'unica cosa che mi ha dato a me un pochettino da fare è la luminosità al buio perché guardo molti 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 video e quindi fanno insomma mi trovo molto comodo del resto io in tutti i telefoni assolutamente ci butto sopra nuova launcher in questo qua non ci ho buttato completamente niente anche perché è già posto di qua c'è una cosa il feed di google che a me personalmente sinceramente piace un sacco cioè a me piace proprio tantissimo piace e quindi tanto di cappella e e poi cosa non gli manca niente cioè le telefonate va bene e il via voce si sente benissimo gli autoparlanti vanno veramente una cannonata gli autoparlanti e e di base comunque sia il suo software adesso ripeto adesso è fantastico gli sblocchi il doppio tap per accendere il doppio tap per spegnere e cioè mi piace da matti sta cosa qua è una cavolata è per dio però comunque sia c'è e cos'altro ancora lo schermo è bellissimo luminoso si vede perfettamente anche sotto la luce del diretta del sole quindi senza rotture di scatole particolari e la cosa bella che esattamente come nova fai uno swipe dall'alto verso in basso e c'hai le notifiche e dal basso dall'alto verso in basso così senza per fare chissà che cosa ti vengi una tendina e quant'altro e questa qui è una cosa che adoro poi ho causato un tema dark comunque sia effetti anche tutto quanto quanto nero ed essendo un amoled comunque sia consuma meno gli ho messo le gesture che mi trovo benissimo dal basso verso l'alto quindi questo è indietro sto qui per la home e sto qua per il multitasking come sapete ha 8 giga di ram e 128 memorie interne che però direi che sono già più che sufficienti edual sim il telefono e basta è bello cioè vi dico mi sono dato veramente veramente bene adesso mi è proprio appena 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 arrivato qua l'S10 mi è appena arrivato e adesso vedremo un pochettino come va perché alla fine le dimensioni sono esattamente le stesse spiccicate proprio ma proprio cioè secondo me cambia veramente di di uno nulla cioè qualche millimetro ma è nell'usualità di tutti i giorni mi sa che non me ne accorgo neanche premetto io che i telefoni comunque sia li uso tutti quanti con la cover li uso io i telefoni solo unicamente con la cover quindi so che tante persone voi magari useranno senza non so chi però comunque sia io i tengo perennementi con la cover e anzi è stato molto fortunato che all'asus store di vignola avevano la cover che non si trova da nessuna parte con anche il buchino qua perché ne ho preso delle altre e sono tutte quante solo con questi buchi qua e basta e questo non si capisce per quanto di motivazione non ce l'hanno e questo qui in particolare è molto carino perché quando ti chiamano c'è questo qua questo che è un led alla fine rgb e che quando ti chiamano si si illumina tutto quanto e quindi una figata e però tutti quanti questo buco qua non ce l'hanno tutto quello che ho preso su ebay e basta del resto gaming va benissimo e cioè cosa dire è un 845 overclockato cioè non può non andare bene via fotocamere giusto fotocamere io sinceramente con la fotocamera normale sia questa che anche la grandangolare mi sono trovato benissimo più che altro vediamo più così magari si vede la differenza di di fuoco da una parte all'altra di e quindi io mi ho trovato benissimo fatto fatto un milione di foto ma è come normale che sia come qua magari andiamo qua e però le foto cioè secondo me le fa le fa benissimo cioè anche i dettagli e tutto poi è anche vero che si vede soprattutto magari nelle foto al buio un po vedere se c'è qualche foto al buio 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 che ho fatto questo qui per esempio l'ho fatta l'ho fatta di sera queste qua sì si vede che si impasta un pochettino con le luci però questo in particolare mi sa che l'ho fatta anche con grandangolo questa qui l'ho fatta senza grandangolo non è delle migliori di certo non è a livello di samsung che non stiamo neanche lontanamente a discutere però al suo perché insomma fa le sue belle fotine fa secondo ma poi come vi dicevo prima comunque sia la batteria dura tantissimo e basta io questo qui ve lo traconsiglio tant'è che l'ho usato comunque sia più di quattro mesi alla fine che lo sto usando e solitamente in un anno cambiavo quei 12 13 telefoni perché non sapevo non saltavo mai 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 fuori trovare uno mezzo discreto questo qua mi sono letteralmente innamorato addirittura l'ho preso anche in preordine cosa che non faccio mai e in effetti me la sono anche un pochettino presa nel sedere perché i primi mesi questo telefono in particolare era una ciofeca come software e adesso invece devo dire sono contento quindi riepilogando sì mi piace da matti e l'unica vera vera pecca è il discorso di vista troppo alta al minimo tutto qua ciao ragazzi